Travaglini, ora passiamo alla dottoressa Marisa Aloia, psicoterapeuta e grafologa, scienze medico legale dell'Università di Siena, presidente della Scuola Superiore di Perizie, docente alla Sapienza Università di Roma. Tratterà la risonanza emotiva nel testamento. Prego. Va bene, grazie. Allora, intanto grazie per l'invito e devo anche dire che in realtà all'inizio avevo pensato di non partecipare perché non avevo un argomento che mi sembrava abbastanza interessante per il convegno, anche perché con i tuoi convegni sul testamento li ho esauriti in pratica gli argomenti perché te li ho portati tutti. Poi invece, pensando al periodo che stiamo vivendo, mi è venuto proprio l'idea di poter parlare di risonanza emotiva nel testamento. Per risonanza emotiva io intendo, ovviamente, aspetta, questo, ok, no, ah, ok. In pratica si parlava appunto di varie tipologie di testamenti. Quando un perito si approccia ad un problema sul testamento, quando può esserci una non contestualità, un problema di imitazione, l'incapacità di intendere e di volere della quale ne è stato parlato abbondantemente e da relatori anche ben più preparati, un falso per ricalco, la mano guidata, un solco cieco, particolarità del contenuto, parti aggiunte da altra mano, è vero o è falso? Questi sono gli argomenti che io ti ho, tra l'altro, anche già portato nei vari convegni. Vorrei invece, in questo caso, parlare dei contenuti psicologici di un testamento. Quindi, quando si arriva, come hanno detto, scusate, altri, a disporre le proprie volontà, è un momento solenne, è un momento importante. Perché si vuole dare una continuità al dopo la morte? Oppure perché si desidera proteggere familiari più deboli? Si sono visti anche testamenti per rivalza nei confronti delle persone che ci hanno dato noia, diciamo, ci hanno disturbato. Oppure per denunciare o per confessare. Queste sono tipologie psicologiche con le quali si può affrontare un testamento. Quindi non è soltanto per lasciare i propri beni, ma proprio per manifestare le nostre ultime volontà. Prima parlava, giustamente, anche Enzo, della criminalistica. In realtà, come ha detto anche il professor Alamorao, in pratica il discorso fondamentale è che la scrittura è comunque una traccia che viene lasciata sulla carta. Quindi è un elemento che parla di noi. E parla anche dell'emozione. Quindi che cos'è un'emozione? L'emozione si riferisce a un sentimento e ai pensieri, alle condizioni psicologiche e biologiche che lo contraddistinguono, nonché a una serie di propensioni all'agire. Dopo un'emozione, ovviamente, c'è quasi sempre una reazione. E la reazione poi ci porta a un'azione. Questo è Goleman. Tu mi avevi parlato, ho chiesto anche a chi avrei fatto riferimento. Ebbene, dovete sapere che il testamento non è soltanto scritto. Si sta cominciando a fare, cominciando, è dal 1998 che in Spagna, hanno messo su una trasmissione dove invitano le persone a lasciare un video per i posteri. Non è facile parlare di morte, è un pensiero che cerchiamo di scacciare più a lungo possibile, che non siamo mai pronti ad affrontare. E in Spagna, come vi dicevo, dal 1998 va in onda un programma televisivo chiamato Epilogo. Io non lo sapevo. La cosa che un po' mi ha fatto effetto è che prima di far parlare i soggetti, gli dicono, ti ricordo che questa intervista verrà trasmessa quando sarai morto. Innanzitutto dici come vorresti essere ricordato. Cosa? Devo stare ferma? No. Ah, va bene. E termina con un commento finale dell'ospite, dove quest'ospite ovviamente dice quello che deve dire. Perché ho portato una fotografia di una sede dell'Anfas a Prato nel 1977, io a seguito di un corso di specializzazione dovevo fare un tirocinio presso questa struttura. Ed è stato estremamente importante per me farlo, non tanto per i soggetti che erano ospiti, di questa struttura, ma pensando col senno dell'oggi, ovviamente, i genitori. Perché per i genitori la preoccupazione più grande di questi ragazzi era il dopo di noi. E questo viene chiamato testamento pedagogico. Cioè, in pratica, i genitori si preoccupano di che cosa potrà accadere ai loro figli con questi handicap o mentali o fisici, quando purtroppo non ci saranno più. E anche questa è una forma di testamento, direi, ricca di emozioni, ricca di pathos. Quindi, loro vogliono che cosa? Garantire all'adulto con deficit la stessa qualità di vita e le stesse possibilità di sviluppo, inclusione sociale, assistenza psicopedagogica e apprendimento. Questo è l'intento di un progetto denominato testamento pedagogico nato dagli studi e dalle ricerche del professor Nicola Cuomo e portato avanti dai suoi collaboratori. Ma, credetemi, quella era l'angoscia più grande di questi genitori. E poi si arriva a quello che è il biotestamento. Ancora più importante in questo periodo di pandemia. Perché non ci si pensa mai che veramente domani, purtroppo, possiamo anche non esserci. Ed allora una pubblicità che c'è dice perché hai fatto un biotestamento anche tu che sei giovane? Perché adesso posso farlo. E qui, velocemente, vi racconto una mia triste esperienza dove una mia amica carissima mi chiama e mi dice Marisa, per cortesia, vieni perché io sto per morire. Era una ragazza che aveva la mia stessa età, un ragazzo un po' di tempo fa. Sono corsa a Bolzano perché era lì e a lei avevano dato una serie di documenti che questa ragazza, questa donna, doveva firmare, aveva una specie di SLA, non avevano neanche diagnosticato bene cosa, e le ha detto io non voglio continuare con l'accanimento terapeutico perché non voglio far sopportare tutto questo ai miei familiari. E non voglio neppure essere prigioniera di un corpo dove io capisco tutto, ma non posso assolutamente gestirmi e parlare con loro. Quindi il testamento biologico a tempi del coronavirus sembra che abbia spopolato, sta veramente andando per la maggiore. Ci sono anche dei libri sul testamento, ma libri a mo' di romanzo e io questi non li conoscevo. Sempre più diffuso ovviamente in Italia è il testamento olografo che è quello che ci riguarda. Uno studio notarile De Martinez in Milano ha analizzato oltre 500 testamenti depositati in 10 anni e ci sono i documenti formulati, datati, sottoscritti direttamente dal testatore e riguardano soprattutto i meno abbienti che non vogliono e non possono sostenere le spese di un testamento pubblico. Comunque la maggior parte dell'oggetto del testamento sono i lasciti, i lasciti in questo caso proprio materiali. E poi io non so se voi l'avete vista, ma a me ha fatto effetto. C'è una pubblicità ultimamente in televisione dove compare un soggetto che forse è anche un volto noto, ma io non lo conosco, dove dice vuoi essere ricordato dopo? Bene, fai questa buona azione. Oppure, non lo so, ti trasformi in un albero. Cioè, nel senso, cercano di far leva sul fatto di poter continuare in qualche modo a vivere o nella mente degli altri oppure facendo appunto una buona azione. E c'era proprio, come si dice, l'incitamento in questa pubblicità a poter far parlare di sé dopo tramite una buona azione, un lascito. Se sì, fai un lascito così almeno poi... Dimmi. Se noi andiamo negli studi notarili abbiamo tutti i Deppliant delle varie associazioni che li invitano all'ascito. Io queste non le ho viste, ti dico la verità. Ecco, francamente no, però capisco. Anche se quello che penso io è che nessuno muore mai finché vive nel cuore di chi resta, ovviamente. Perché si parla a questo punto di testamento e qual è la parte del testamento che può rivelare le emozioni? Voi sapete, e chi non lo sa lo dico adesso, io sono marchesaniana. E Marco Marchesan ha ideato tre sistemi di analisi e questo è il sistema psichico che racchiude, tra l'altro, sei fasi ben precise. Cioè lui dice di fronte a uno stimolo si reagisce a questo stimolo in base all'intelligenza che abbiamo prima di tutto. All'emozione che questo stimolo crea in noi l'emozione, come dicevo prima, genera una reazione dopodiché posso deliberare, decidere e agire. Queste singole fasi sono appunto esaminate nel sistema psichico di Marchesan e non va avanti. Vediamo. Eh sì, l'ho fatto, però vedi? Mi sei bloccato su questa slide. Aspetta, si fa così. Vado io, sì sì, infatti. Vado direttamente appena ci arrivo. Ecco qua. Ok, ora rimetto presentazione. Scusate, problemi tecnici. Questi sono i tre sistemi che vi dicevo. I numeri, questi sono i nostri numeri sulla, eh, sui segni e sulla combinazione dei segni. Marchesan ha fatto i 226, io li ho portati a 300 con l'integrazione delle altre scuole perché a mio avviso sarebbe importante riuscire a interagire. Quindi le emozioni sono risposte ad uno stimolo. Questo stimolo può essere interno o esterno. Questo è un, neanche un testamento, se vogliamo è un pensiero lasciato da un soggetto dove, non so se riuscite a leggerlo, però dice queste parole che vi scrivo avrei piacere che leggete dopo la morte che sta vicino giorno sopra giorno, mesi sopra mesi, perché la mia vita so che è molto corta per causa della malattia che ha a soffrire. Se non c'è emozione in tutto questo, io credo che sia abbastanza importante. Guardate anche la grafia come cambia. All'inizio è una grafia più grande, più chiara, poi piano piano comincia e diventa un po' più piccola. Dice comunque ai suoi parenti che lui pensa che gli abbiano voluto sempre del male, ma lui non era cattivo e è come se lasciasse quindi, se vogliamo, una specie di dichiarazione sul suo stato. Ma l'elemento vero che io vi ho portato e tra l'altro la storia è nel volume del testamento olografo già che è stato ripubblicato dalla Casa sulla Rotta del Sole è questo testamento. E' il testamento di un ragazzo di 23 anni, morto per overdose. La cosa più incredibile è che se voi ci fate caso, questo testamento è come fosse diviso in due parti. La prima parte è esclusivamente emotiva. Spero di non aver dato ancora troppo disturbo. C'è sempre questa paura di dar noi agli altri o che gli altri non ci capiscono. Per il mio coraggio non ne potevo più. Spero che avete capito che sotto sotto vi voglio un gran bene. Dato il mio coraggio non ho potuto mantenere le promesse di non fare sciocchezze a casa, ma quando ho avuto un attimo di coraggio l'ho voluto fare. Guardate la grafia di questa parte della lettera. Qui spiega il suo gesto. Quando poi decide di passare all'azione, la scrittura improvvisamente si fa più chiara. Ho deciso, e qui lo dice chiaramente chi ha deciso, ho deciso di farla finita adesso perché quei soldi che ho ve li possiate godere come avrei voluto fare io. Vi voglio bene a tutti. Quindi avete visto il cambio di scrittura in una stessa pagina, in uno stesso momento, però quando parla di emozioni c'è questa grande confusione. Quando invece decide di liberarsi e purtroppo di suicidarsi la scrittura è molto più chiara. Non contento di aver scritto già in modo chiaro la sua decisione, scrive un biglietto anche in stampatello perché sapete che da tutti lo stampatello è considerato più leggibile. Quindi io Marco desidero in piene facoltà mentali di essere cremato. Marco e poi questo frego che io ho chiamato ultimo tratto. Ultimo tratto perché in realtà questo sarebbe il cognome. Ma se leggerete poi la storia, il problema grosso di questo ragazzo era proprio la sua famiglia. Di conseguenza il suo cognome poi come vedete è diventato una sottile linea. Questo si parla del testamento nei libri tra l'altro della collana dei libri del perito e dovrà uscire testamenti tra i mondi e sarà tra l'altro ripubblicato anche aggiornandolo le sentenze che sono utili per il perito che ogni tanto ce l'andiamo a cercare verrà ripubblicato e quindi verrà aggiornato. Questi sono i miei recapiti per chi ancora non li avesse. La scuola superiore di Perizia sta organizzando dei seminari e ultimamente stiamo facendo dei seminari appunto in International School. Ha già parlato il nostro collega greco, ha parlato Yolanda che dovrebbe essere qui ma secondo me ha fatto furta, infatti, e poi a gennaio parlerà il nostro collega marrochino. Io vi ringrazio, concludo con questa frase e io ci sarò, ci sarò su nell'aria, a loro ogni tanto se mi vuoi parlare mettiti da una parte, chiudi gli occhi e cercami. Ci si parla ma non nel linguaggio delle parole, nel silenzio. Vi ringrazio.